Alla fine è una bella vittoria dell'Italia. Sì, siamo contentissimi perché era una partita fondamentale per noi. Penso che la Turchia sia la squadra che gioca, una delle squadre che gioca al meglio in questo momento. Quindi siamo state brave a metterle subito sotto e poi quando ci hanno messo in difficoltà venirne fuori il prima possibile. È sembrato qualche volta che forse un pochino di... perdeste la situazione perché quando avete spinto poi in realtà all'inizio della partita e alla fine avevate il controllo del match. Sì, penso che quando andiamo al 100% la differenza si vede. Dobbiamo, penso, la cosa che bisogna fare il prima possibile è cercare di mantenere questo livello sempre. E forse penso che ci manca un po' il ritmo gioco e quindi bisogna recuperarlo per questo. Però sono contenta che ne siamo uscite in fretta. L'impiede è per te, personalmente? Beh, penso che è un sogno già essere arrivata qua e voglio godermela e dare veramente il 100% dall'inizio fino alla fine. In Italia dà sempre l'impressione di essere una squadra comunque che si ha spinto. Sì, siamo, penso, un gruppo che quando sa divertirsi, penso mettiamo una qualità maggiore, ancora più grande rispetto al solito. Questa è la nostra forza. Dobbiamo ricordarci di farlo sempre perché ogni tanto quando perdiamo magari il filo ci incubiamo. Invece dobbiamo divertirci sempre e mantenere questo livello sempre più alto. Grazie. Grazie. Grazie.